L'eccessiva proliferazione di contratti collettivi nazionali di lavoro sta mettendo a rischio la tenuta occupazionale nel settore della riabilitazione sanitaria. Ecco perché minaccia una nuova mobilitazione contro il dumping contrattuale nelle professioni sanitarie la Funzione Pubblica CGL, i cui rappresentanti hanno organizzato a Napoli un confronto con esponenti della politica delle istituzioni e a cui hanno partecipato anche alcuni pazienti con rispettive famiglie. L'iniziativa nasce in risposta alle scelte di diversi imprenditori di modificare a ribasso i contratti di lavoro nel settore. A tracciare il quadro della situazione nazionale Barbara Fracavilla, segretaria nazionale con delega alla sanità privata della FP CGL. Le regioni dovevano in accordo con la conferenza delle regioni, quindi non in maniera assoluta, avevano stipulato un accordo al Ministero della Salute ovviamente dove si impegnavano al finanziamento del 50% del contratto. Qual è il problema? E' che in questa regione è stata fatta una delibera, l'unica in tutta Italia, che racchiude all'interno di quel aumento di tariffe e di budget anche chi non applica il contratto della sanità privata. Quindi questo ha generato automaticamente un passaggio di dumping contrattuale istantaneo. Tra i rappresentanti delle istituzioni intervenuti la senatrice Susanna Camusso e il deputato Franco Mari. Sicuramente la campagna al mezzogiorno del nostro paese lo soffrono più che altre regioni, ma il dumping contrattuale è ormai una malattia del nostro sistema e è anche una delle cause dell'esistenza sempre più diffusa di lavoro povero. L'intervento che si può fare è ovviamente su vari livelli, innanzitutto quello delle competenze regionali e poi anche a livello nazionale, a livello parlamentare per quello che ci compete. Esistono immediatamente anche delle scadenze, la discussione su DL Concorrenza è un'occasione.